Ecco le parole di Ilaria che stanno facendo molto discutere sul web Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del grande fratello e lunedì 21 ottobre 2024 una nuova puntata del programma andrà come sempre in onda su canale 5 a partire dalle ore 21 e 35 Alfonso Signorini, accompagnato come sempre in studio da Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, ci guiderà in quella che si preannuncia una serata ricca di emozioni e colpi di scena In queste ultime ore sta facendo molto discutere una frase della nota Ilaria che è, parlando con le sue compagne di avventura, si è lasciata andare a delle dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali sul web La donna infatti ha definito il grande fratello un gioco, ma quello che fa scalpore è che ha dichiarato che gli viene chiesto cosa fare. Alla fine se poi tu ci pensi questo è un gioco, dove fra l'altro ci sono pure quello che dobbiamo fare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti